Musica Ho scambiato una chiacchiera, la prima questione che gli ho posto è la Whirlpool E' la Whirlpool perché ritengo e riteniamo inaccettabile che una multinazionale dalla sera alla mattina con una X possa cancellare la vita di 420 lavoratrici e lavoratori Io gli ho chiesto di impegnarsi in prima persona, lui mi ha detto che lo farà Poi io l'ho anche riproposto pubblicamente nel mio intervento e lui ha preso anche un impegno pubblico Quindi credo che c'è l'attenzione massima, poi abbiamo parlato anche di altro Insomma il Presidente mi sembra molto attento su quello che sta avvenendo nella nostra città Insomma la credibilità di Napoli è forte, io questa la sensazione l'ho, non da adesso E ho anche offerto la piena e totale disponibilità al di là delle differenti valutazioni politiche Tra le compagini che sostengono questo governo ad avere il massimo di cooperazione ancora più forte Tra la città di Napoli e il governo nazionale